Andate all'inferno, baby! Maledizione, sono troppo veloci! Ma se non si muovono neanche. La famiglia Forger è in vacanza a Frigis, il paese delle nevi. Che buona! Non allontanarti o ti perderai. Non importa se Anya oggi è andata a dormire più tardi del solito. Quel viaggio... Ho bisogno che recuperiate il microfilm. Determinerà il destino del mondo. Scopierà una guerra tra est e ovest. Io voglio che uccidiate la ragazzina! Non dirmi che Anya si è mischiata in questa storia con l'esercito. Fuoco! Si scatenerà una guerra! Ancora troppo presto per arrendersi! Il destino del mondo dipende soltanto da quel microfilm. Sono nei guai fino al torno! Restiamo uniti come una famiglia! È tutto ciò che sai fare. Eliminateli. Questa volta io li salverò! Aspettami, Anya! Spy Family Code One. Ce la farò. Le riporterò a casa. È tutto ciò che up Open. Come è connessi come una giornata ancora ne subito? Luca? Come è? Ce la farò. Come è 추